mancano dieci livelli siamo siamo da un'ora e 12 minuti questo è quello che mi sta sul cazzo dimmi da quando devo partire ora salta 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 eh però devi saltar prima ha morito eh buonasera il segno gli angeli a scopare no questo non mi ha legato male ahi dai oddio eccolo questo è proprio giusto l'intoffa da 24 ore io l'ho fatto eh ma vaffanculo ma questo ci rimane intoffa da un po' no 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 questo è quello che ti fai tutti porcazio questo è questo stavo spettando grazie per avermi ricaricati tutti no no 99 mamma è l'ultimo mamma è l'ultimo questo vai prego grazie che cazzo è questa cosa ma che è ma che è eccolo ma che dobbiamo far oddio ma che dobbiamo far oddio devi saltar eh ma dove devi saltar oddio mamma è il livello 100 la muri tu aspetta no è il più difficile aspetta aspetta quello è impossibile ma che è ah dovremmo saltà mamma oh sì ma che cazzo è ah ma è tutto insieme vittoria hai vinto sono morta meno volte che te quante io 209 e tu 260 vabbè come faccio a vedere vabbè we are the champions we are the champions no time for losers cause we are the champions of the world I am